Mi è sembrata sentinalizzata. Troppo scopato. No, io su questo piano qua sto sempre male. Qui è dove hanno sforzato Giulia. Qui dove aveva gli ors che giravano così dietro. La chiamavano per nome. Tutto qua. La chiamavano per la chiamavano. La chiamavano per la chiamavano. La chiamavano per la chiamavano per la chiamavano. Proviamo a accendere qua. Ok, allora, ultima batteria cambiata. Quindi questa è la sessione finale di Ghostbox. Siamo nei sotterranei, nuovamente. Appena siamo entrati in questa stanza, da subito c'è stato un odore tremendo di letame. Sembra proprio di essere in una stalla. E questo non è l'odore che c'era quando ci siamo passati oggi pomeriggio. Perché oggi pomeriggio siamo passati da questa stessa stanza, che è quella dove qui per terra c'è la Bibbia o il Vangelo. E non c'era assolutamente questo odore. Ora c'è. I vostri nomi. Correndo, vettore. L'hai sentita? L'hai sentita? No. Quattro. Tre. No. Ciao. Fate spegnere una delle luci. Che ci sono qua? Due. Uno. Ma che conta la... Che conta la ravescia? Cosa sta per succedere? Sei. Qui. Cosa? Cazzo. Che hai visto? Ma anch'io ho visto una cosa. Hai volato qualcosa? Eh sì. Hai lanciato qualcosa? Ho sentito un rumore. No, io l'ho visto proprio lanciarsi lì. Io l'ho visto una cosa piccola. Cogliera. L'ho visto una cosa luminosa. No, io l'ho visto leggermente luminosa. Forse per via delle torce. E poi ho sentito toc. Sì. Siete voi? Sì. Rifatelo. Rifatelo. Fate qualcosa di più. Sì, ma fate... Visto che siete così forti... Fatecelo davanti agli occhi. Palesemente davanti agli occhi. Che possiamo vederlo tutti. Buttate in terra una torcia. Fate spostare la Bibbia. È facile se lo vi nascosto. Perché stanno in silenzio? L'ha detto anch'io. No, io ho detto anch'io. Ah. Forza! Fate qualcosa. Che brutto suono, quello è. Sono fastiduiti. Chi è arrivato? Sì, stavolta lo sentirei anche io. Chi sei? Dio. Dio. Devo venire io da solo di là? Di nuovo una botta. Allucinante, ragazzi. Dio, l'altra volta. Chi sei? Chi è che sta parlando? Sette. Sette è un nome... Dio, è una divinità egizia sette. Ve lo richiedo, che cosa sta per succedere? Sta arrivando qualcuno? Mi chierò un po' la testa. Io ho capito una brutta parola. Mi chierò la testa? Io ho capito una brutta cosa, ragazzi. Cosa? Io ho capito morte qui. E' morto qualcuno qui? Era la risposta alla mia domanda. Cosa sta arrivando qui? Morte qui. Cosa sta per succedere? Non nemmeno mi ricordo. Lei gira la testa. Ora? Come ti senti io? Un po' strana. C'hai occhi lucidi? Non lo so. E ondeggi anche? Mi sento la testa... Lasciate stare Chiara. Anche io, ragazzi. Strana. Lasciala stare. Mettete un attimo più vicini. Almeno così vi sono reagito a vicenda. Anche io. Tipo quando sei per svenire? Hai la sensazione di essere debole, vero? No. Ora qui. Flo? No, no. Qua 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 qua. No, no. No, qui 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 qui. Qui davanti qua qua qua. Qua qua qua. Non c'è niente qua? Qua 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 qua. E c'era un fumo così tipo... Dentro giuro. David? Posa? Cosa così? C'era un fumo? David, aiuto mi pare di aver capito. Si. Eccolo qua di nuovo. Mi sa che sono io ragazzi eh. No, 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 ma vi devo proprio fare un affare Ha detto via su Cosa sta succedendo qua? Perché? Cosa sta per succedere qua? Qua Forte Siamo in pericolo? Dove ci vuoi? Doviamo entrare in questa camera? Di qua? Di qua? Sì, mi trovo riferito non so a cosa Di qua? No, no, ha letto Ok, allora Mettiti dritto in questa direzione qua, Matteo Dritto di A? Tu mi metti dritto questo insieme Sinistra o destra di Matteo? Ripeti, sinistra o destra? Sì Sinistra, quindi quella Sinistra di nuovo la ditta Chi fa? Qui? Cazzo era quel suono brutto Ci volevi qua dentro? Perché state qua? Vi abbiamo già fotografato qua Cosa fate qua? Aspetta un minuto Un minuto poi Ah, vuole noi Tra un minuto Qua c'è un freddo assurdo Sì, è vero Si gira C'ho privilegio Tutte le parti anch'io Chi c'è qua dentro? Nessuno ha detto Volete che ce ne andiamo? Non ho capito io No, ha detto niente Sì o no? Sì Sì Perché? Facciamo una cosa Noi ce ne andiamo Ma tu devi far cadere qualcosa Devi farti sentire No, ha detto David Si, mi ha chiamato Cosa posso fare per te? Stai Dove vuoi che stia? Qui E se non volessi stare qui? Ti vedo Mi fare Ok, ora me ne vado Non sei? Cadetta, vedi capito Non sei? Che cosa? Non è autorizzato magari? Ad andar via? Mai Hai detto mai Mettiamoci un uno o una porta Cioè Un uno o una porta Non ne so Matte è qui Chiara Qui Io qui E David è lì A quadrato Di sopra Faccio una domanda stupida Ma se io resto Gli altri possono andare via? Vai Allora vado via Anch'io Sta Resta Resta Ah, resta Brava Resta Con noi Con noi Resta con noi Resta con noi Tutti noi ancora? Clorinda Ha detto Clorinda? L'ho sentito bene? Sì, ma tutti noi Clorinda cosa vuol dire? Samanta No, è proprio da stronzo È il tuo destino Raga, arriva un brutto presentimento Ci andiamo? Ci andiamo fuori Perché mi è venuto veramente un brutto presentimento Noi possiamo andarcene tutti via? E voi state qua dentro? E non ci seguite? Non potete Prova Io capito che lo rinda qua Andiamo Non mi piace più Eh, sì Andiamo, andiamo Ora chiuderemo la sessione E la chiudiamo mentre andiamo Non dovete seguirci Non vi autorizziamo Voi siete bloccati qua dentro Va bene? State qua Ora avete capito perché è la villa maledetta Sì, mi sono veramente inquietato Ora voglio Ciao, buonanotte Noi andiamo via Ha detto via Cosa sottoscrivi? Cosa hai detto? Tè? Tè Non potete seguire neanche me L'avete già fatto una volta Non potete seguire nessuno Né Matteo, né Chiara Nemmeno David Vi è chiaro, sì? Un pochino ha detto No, neanche un pochino No, no, no Per niente proprio Non siete accetti Ben accetti Nessuno di voi Nessuno di voi Vi è chiaro? Non ti arrabbiare Può darsi che ha detto non ti arrabbiare? Può darsi No, io non mi arrabbio Ma non siete ben accetti Nessuno di voi Per nessuno di noi Vi è chiaro? Torna giù ha detto Non ci penso proprio Siamo, siamo Andiamo, via Ha detto torna giù Non ci vuole fare andare via Probabilmente perché comunque non può sembrirci E' un pochino Chiuso Ok, allora Python Teniamo qualche conclusione Io direi che Come già pensavamo Questa villa qua è maledetta veramente Non so neanche che altro dire Perché alla fine Siamo dovuti andare via Perché la situazione stava Degenerando completamente E Sono senza parole Perché Per l'ennesima volta Qua dentro Ci hanno preso in giro Dall'inizio alla fine E A mio parere C'è veramente qualche entità Negativa Con influenza negativa Qua dentro E Prima o poi Riusciremo Ad andare a fondo Alla storia Non so quando Però ci proveremo Sicuramente Io direi che E' stata un'esperienza Di nuovo Assurda Come tutte le altre volte Assurda è una parola giusto Assurda E Sentito? Forse ero io No, ero Niente Che cazzo era Scusa No, no Tranquillo No, no Mi sentivo Era Un ciottolio comunque Perché ogni volta Che poi Diciamo Di andarcene Qua succede Sempre qualcosa Oltretutto Come adesso Che mi sembrava Dei passi Qualche rumore Da provenire Da quella camera Di Continua a suonare Sì Continua a suonare Chiara Te che ne pensi? Penso che A me sembra Che ogni volta Che stiamo qua dentro È sempre peggio Sì Sono sempre più aggressivi Sì, esatto Io non capisco Se è una cosa Che fanno Per mandarci via O se veramente Possono fare qualcosa Cioè Ci spaventano Così noi diciamo Vabbè Ce l'andiamo Così non ci fanno niente E invece poi Effettivamente Non possono farci niente Per la prima volta Te sei stata male Ma è tornato poco Però è la prima volta Che ti succede Il contentino Il contentino Capito? Io ti faccio stare male Così tu ti spaventi E te ne vai E mi lasci in pace Perché questa è casa mia Io ci ho fatto Quello che ho voluto Qua dentro Qua ci sono le mie anime Ci sono i miei giochini E tu adesso Te ne devi andare Perché mi dai fastidio Come tutti quelli Che sono venuti qua dentro Come tutte le ditte Tutti quelli Che hanno voluto fare Qualcosa qua dentro Secondo me Questo è sempre Sempre quello che penso io Sì Penso la stessa cosa Un'ottima teoria E magari in un futuro Ci torneremo ancora Magari con qualche Altra strumentazione Magari in più Per capire Un attimino Veramente Se c'è qualcuno Che vuole solo Mandarci via Che è molto probabile Qualcuno che è legato Proprio a questa villa E la cosa che mi ha fatto Anche più senso Comunque Che si ricordavano Cioè Di noi che eravamo Già venuti Hanno detto anche I nomi Quindi Hanno fatto più di questo Hanno fatto più di questo Direi che Siamo Siamo arrivati Al limite Per stasera Ed è meglio che Sì sì ora ce ne andiamo La piantiamo qua Te Clò Che ne pensi? Come Come ti senti più che altro? Ma io Ma io sinceramente Mi sento Mi sento bene Nulla Ho fatto una sbrillata prima O l'ultima? Io mi sento bene Non Cioè nel senso Ovviamente Non è che sono contenta Di avere gente addosso Cose così Però nel senso Non avevo paura Ero tranquilla Infatti Diciamo che ho cercato Di tenergli testa Il posto è Bellissimo Nonostante il degrado Sono contentissima Di essere venuta qui Con i ragazzi Grazie ancora Però d'altra parte È veramente Un posto ansiogeno Cioè ora capisco Quello che loro Ci dicevano Durante le chiacchierate In privato Piuttosto che in live Piuttosto che Durante le loro Sessioni di indagine Che hanno fatto Le loro due Le loro gruppi E basta Senza di noi È veramente ansiogeno Nonostante sia Un palazzo enorme Ha questa cosa Continua Di Di oppressione Ti senti sotto attacco Ti senti osservato Ti senti oppresso Sì È veramente Da fastidio Stare qua dentro Cioè Bello per farci un giro Ma proprio per farci Un giro veloce Devo essere sincera Anche se avessi Tutti i soldi del mondo Non ci abiterei Mai qui dentro Mai Ecco la rinda Comunque Se vedi Più stai qua dentro E peggio le cose diventano Sì 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 Acquisiscono una forza Enorme Piano piano Se fossero stati ancora Due tre ore Qua Succedeva veramente Qualcosa di Secondo me anche di grave Ho questa sensazione qua Ho percepito la stessa cosa Anch'io Per quello che Me ne voglio andare Non lo so Sicuramente Comunque Non Sono entità Intelligenti Senzienti Perché comunque Io ho visto Basandomi sui vostri video Per esempio In escalation Con ognuno di voi Se te vabbè Te sei il bocconcino forte Per loro Però anche con lei Cioè lei Durante tutta l'indagine Dei gruppi interi A te Tra virgolette A parte i capelli Non ti hanno fatto niente Poi la fine Ti hanno dato Quel respiro ansiogino Che ti ha infastidito Oggi mal di testa No giramento Sì giramento di testa Vabbè insomma Anche con lei Piano piano Come se stessero acquisendo La cosa di dire Ok mi faccio sentire Come se facessero conoscenza Esatto Sì il problema Che non sono pacifici E quello è brutto Assolutamente no Ok dai Andiamo E te David Non hai nulla da dire Te non hai nulla da dire Nulla da dire Nulla da dire Insomma Nel senso Sì diciamo che non c'ho nulla da dire In realtà avrei molto da dire Sono rimasto turbato Turbato come poche altre volte Mi dà fastidio stare qua Mi dà tanto fastidio Non vedo veramente l'ora di uscire Mi è capitato altre volte Di sentirmi così E Chiara mi sta mettendo un'ansia assurda Con il fatto che sta guardando in alto Perché mi aspetto che stia percola tutto Da un momento a quell'altro C'è una sensazione di pericolo imminente In questo luogo Mi dà veramente veramente noia Non vedo l'ora di andarmene Comunque ringrazio Ovviamente Python Urbex Ringrazio Chiara del GPS Ovviamente ringrazio Clorinda Sperando che non ti sia portata niente dietro E con questo vi diamo In maniera molto frettolosa Appuntamento alla prossima puntata Noi siamo il midnight Questo non l'ho mai visto succedere Ma Sul dispositivo Puoi fermarti per favore? Ancora sta cosa? Non so Qualcosa là in fondo Ma qualcosa di sensazione? No no l'ho visto Hai visto qualcosa? Eh E infatti pensavo fosse la lampadina Continuavo a girare No? Ahah Boh È come un ombra di una testa Che è così Boh Davvero? Eh Boh